Senti, hai qualche programma per il fine settimana? No, perché? Ma se non hai programmi ho pensato che potremmo andare a trovare mia sorella. La tua sorella? Di nuovo? Veramente è dopo un po' di tempo che non ci andiamo, eh? Ma se ci siamo andati il mese scorso. Allora, ci vuoi andare o no? Beh, è che ho pensato di stare un po' in tranquillità noi due. Allora non ci vuoi andare? No, è che questa settimana sono un po' stanco. E poi scusa, ti ha invitato lei oppure è un'idea tua? È un'idea mia? Ma perché lo vuoi sapere? Beh, non vorrei dare fastidio. Fastidio? A Laura? Sì, a Laura, perché non è possibile che le diamo fastidio. Ma dai, la conosce, è così ospitale. Ma poi domenica c'è la partita in televisione, lo sai, io la voglio guardare. E vabbè, la guardi a casa sua, che problema c'è? Non so, lei odia il calcio. Ho capito, non ci vuoi andare. Non ho detto questo. Non l'hai detto, ma lo pensi, si vede. Ok, le telefono e le dico che non ci andiamo. Allora ve l'avete già messi d'accordo. Perché non me l'hai detto prima? Non importa, con mia sorella non ci sono problemi. Allora, va bene, dai, andiamo. No, no, non importa. Non ci andiamo, non fa niente. Ma andiamo, dai, poi ci rimane male, mi dispiace. Pazienza, non ti posso certo portare con la forza. No, ti ho detto che andiamo, va bene. Non mi sembra proprio che vada bene. Uffa, fai un po' come ti pare, non dare poi la colpa a me, però. No, ti ho detto che andiamo, va bene.